Cos'è il microbiota? Il microbiota è fondamentalmente l'insieme dei microorganismi che popolano il nostro corpo. Ebbene sì, il nostro corpo è popolato da miliardi e miliardi di microorganismi, di ogni genere e specie, che vivono insieme a noi sin dal momento in cui veniamo concepiti e praticamente sono in ogni parte del nostro corpo. Ci ricoprono all'esterno, all'interno e ce li abbiamo dappertutto. Quindi dobbiamo imparare a conoscerlo, questo microbiota, a capirlo e a anche coccolarlo, perché il microbiota intestinale, che è quello di cui parlerò oggi, è particolarmente importante per la nostra salute.